si parte bello ripidino schianta dopo, eccolo qui il passaggino oh belli c'è un bell'insacco e qui la risalita bellino hanno rifatto che è povero qui c'è nessuno e qui sono passati di qua ah bello impegnativo eccoci che bello ripidino non per principianti ecco diciamo così anche questa è un'altra discesa sono venuto giù da Gualdo ho preso la via dei Boschetti e ora vengo a fare Easy Rider e vediamo com'è Easy Rider dovrebbe essere semplice è già qui è un po' semplicissima e una bella insaccata qui qui ci lascia la cavi in aria sono le foglie che non fanno vedere neanche le radici e si passa di qui così poi di qua albero per lui e di qui Easy Rider una cipola e qui si scivola anche a scendere è sempre un bel muro e qui invece siamo su quella che ci riporta di là ora via dell'acqua buona è la via per ritornare a casa che ci riporta di là woohoo c'è uno di un nuovo di un nuovo io no, ciao yoohoo whoa è andato lungo va bene, va bene, ho visto ciao, buongiorno ciao ciao è il saltino saltino micro saltino e la falabini giù è divertente casa dolci casa ciao ciao ciao